Marco Rossi, vieni! Booo! Marco Rossi... E' così che abbaglia! Rarri! Rarri! E' così! Rarri! Bene! Facciamo questa e per la facciamo quella... Nooo! La pillolina non funziona... Non funziona... Neanche con pillola! Sai che ti dico? C'è non funziona la pillola! Metti una pillola a meleggia! E tu ti dico... Non ci troverà! Io invece... Un tempo lo savo... E poi... La pillola... Non c'era più! Non c'è! Non c'è! Il problema... E' che tutto la pillola... Non scenderà mai più! Cos'è che non spende più? Cos'è che c'è? Ti ho capito! Non c'è che vogliaviare la fame nel mondo trafini... Che sono loro... Che cosa! Ma che cosa che mangiare? Ma vanno tutti! Che vogliamo provendere le paprine miglore, miglore... Per chi si deve andare di che prima è bambina Il palio di me! Il palio di me! Il palio di me! Il palio di me è il palio di me E! E! Il palio di me!